Da oggi al cinema c'è il nuovo film per chi ha paura di essere contagiati da qualsiasi cosa, da schizofrenie politiche, da malattie vere e proprie. Il film Il Contagio. Il Contagio oggi al cinema. Gli attori protagonisti sono Flilton from Biden, Glauco Gherchini, Herbert Dascherts, Fauster Campbell e infine la nuova giovane proposta di pochi anni, la bellissima e bravissima Herbert Eina G. Birtina Witzwin da Dresden, Germania. Da oggi al cinema nuove emozioni con il film Il Contagio che mi hanno contagiato anche a me con questa tosse. venite da oggi al cinema a vedere i nuovi film Il Contagio.